La prima corsa è un doppio chilometro per cavalli indigeni di 4 anni, non vincitori di 10.000 euro nella carriera, sono in otto al via, corsa abbastanza incerta, vediamo anche come viene. Cavalli che partono in questo momento, vanno in lotta Rivarolo, Rain Dancer e Rondò Veneziano, si mette di galoppo Rain Dancer. Cavallo numero 4, Rain Dancer, squalificato. Rondò Veneziano e l'attacco di Rivarolo, i due ovviamente si danno battaglia per 200 metri che saranno piuttosto intensi. Rivarolo lo ricordiamo fa scuderia con Reglis, frazione in 15 secco e alla fine l'allievo di Martellini in qualche maniera respinge Rondò Veneziano e Totoro una volta che il suo allievo ha preso ad andare anche il suo bel da fare a metterlo secondo, manovra che gli riesce perfettamente e dopo 400, frazione in 15 e 3, va dritto Remembert che però si apre di galoppo nel tentativo di andare e impegnare il Battistrada. Cavallo numero 8, Remembert squalificato. Benfenati incorre purtroppo per lui nei rigori della giuria, se ne vanno 600 molto allegri, 15 e 6 di terza frazione e la più lenta delle tre ma vuol dire fare comunque 46 scarsi per aprire le ostilità, prova a rallentare Rivarolo una volta conquistato il comando e si va al completamento degli 800, intanto si muove Resina Holz, frazione lenta o meglio la meno veloce in 16 e 1, 800 comunque piuttosto svelti per la categoria ricordiamo che si corre sul doppio chilometro e che il primo dei due arriva in questo momento con il paletto di Rivarolo da Battistrada ancora in 15 e 6, quindi siamo ben sotto al 2,36 di misura totale con cavalli che questa misura valgono c'è Rondò Veneziano nella scia di Rivarolo, di fuori c'è Resina Holz seguita da Rucco e Aspriz poi in corda terza c'è Raffica Holz a precedere il resto della compagnia, non vi inganni l'ultimo concorrente che infatti adesso si ritrae perché Remembert era già squalificato 15 e 6 ancora, di frazione per passare davanti al tribune, iniziano gli ultimi 600 e calata anche Rucco e Aspriz frazione in 15 e 6, anzi calata Resina Holz, Rucco e Aspriz la scavalcata e va a lottare le piazze minori ha avuto problemi al paletto degli ultimi 600, Resina Holz lo ripeto, intanto Rivarolo scappa 15 e 7, andatura costante sempre con parziali attorno al 17 e mezzo forse anche meno sono in due a staccarsi, Rondò Veneziano nella scia di Rivarolo e terza rimane ancora Raffica Holz ma ha perso contatto dai primi sull'ultimo allungo, quello dei 1.600, ultima curva in 15 e 4 si rinnova in retta d'arrivo il duello tra Rivarolo che è un po' provato e Rondò Veneziano che sembra più produttivo lottano testa a testa i due, Roberto Tottero richiama alla voce il suo e appoggia il frustino sul dorso e vince 1.17 e mezzo, una eccellente media per il vincitore al chilometro, lontana terza ma più che discreta in questa performance finisce Raffica Holz che nel finale stacca nettamente Rucco e Aspriz ripetiamo 1.17 e mezzo la media del vincitore al chilometro Rondo Veneziano con Roberto Tottero allenatore, guidatore e proprietario che aveva annunciato in ordine il suo allievo numericamente 532, il probabile e ufficioso come sempre, ordine d'arrivo